Elisabetta Soglio, giornalista, prima ad avvenire dal 1994 alla Corriere della Sera, oggi direttrice del settimanale Buone Notizie, l'impresa del bene. Moglie, madre, lei come si presenterebbe? Ma io sono una persona sostanzialmente fortunata perché nella mia vita sono riuscita a fare un mestiere che mi piace molto perché mi ha permesso di incontrare tante persone, sono fortunata perché questo non mi ha impedito anche di creare la mia famiglia anche se insomma è stato molto faticoso e senza i miei genitori diciamo probabilmente non ce l'avrei fatta perché il nostro è un mestiere molto impegnativo e poi sono stata fortunata perché sono riuscita anche a realizzare questo sogno appunto di vedere in edicola questo progetto Buone Notizie al quale avevo lavorato da un po' di tempo e insomma poi il mio direttore ci ha creduto, Luciano Fontana ci ha creduto, ha convinto anche il nostro editore Urbano Cairo e quindi siamo andati in edicola e per me è stata una grande gioia. Buone Notizie, l'impresa del bene perché è un'impresa fare il bene e anche raccontarlo? Esatto perché il bene fa impresa quindi perché intanto vogliamo spiegare ai nostri lettori che non stiamo raccontando le storie dei buoni contro i cattivi o non stiamo cercando di dividere il mondo appunto fra buoni e cattivi ma stiamo raccontando il bene che oggi in Italia, le imprese di bene che generano appunto impresa anche a livello economico e che sono un valore anche economico e poi sì perché è un'impresa fare il bene, un po' anche raccontarlo, tant'è vero che in Italia non c'erano altri esperimenti come questo di un quotidiano nazionale che avesse mai deciso di imbarcarsi in una sfida di questo tipo. Tu sai che nel mestiere nostro per i giornalisti, per vendere i giornali ci vogliono le tre S, sesso, soldi e sangue e noi abbiamo proprio scardinato questa idea intanto perché siamo convinti della necessità che anche noi giornalisti, noi comunicatori cambiamo l'approccio al nostro modo di raccontare quindi raccontiamo anche un pezzo di realtà che solitamente invece non trova eco, non trova voce e poi perché c'è anche una grande richiesta dal basso cioè direi che questa è stata la cosa che più di tutte ha convinto il mio direttore, lo racconto sempre, lui a un certo punto quando gli ho presentato il progetto mi ha detto io vado in giro a qualsiasi platea, io parli, le persone alla fine mi dicono ma perché non ci raccontate anche qualche buona notizia e forse c'era anche un'esigenza delle persone, siamo troppo bombardati da cose negative per dimenticare poi che invece c'è tanto di buono intorno a noi, basta appunto avere voglia di cercarlo e di raccontarlo. Buone notizie nasce per quello che riguarda me, nasce proprio da un mio essermi messa in gioco dal punto di vista etico, io arrivata appunto a 25 anni di carriera mi sono chiesta a che cosa poteva servire il mio lavoro e quindi ho pensato che usare il mio lavoro, ripeto, per valorizzare le forze positive del nostro paese forse poteva contribuire in piccolo a invertire un po' questa tendenza al piangersi addosso che abbiamo e al vedere che va tutto male. Ci sono tanti problemi ma c'è anche la possibilità di risolvere i problemi. Se il Corriere della Sera comincia a portare questo messaggio intanto do più forza a chi ha cercato una strada positiva e poi incoraggio anche le altre persone. Quindi io molto con grandissima umiltà però penso che questa esperienza sia anche frutto di un percorso che ho fatto, di cose che ho imparato appunto negli anni di avvenire, negli anni di Corriere, di tanti maestri che ho avuto la fortuna di avere anche in questo giornale qui in Via Solferino a Milano che mi hanno insegnato questa cosa che era fondamentalmente il rispetto delle persone. Rispettare le persone vuol dire anche aiutarle a vedere un mondo magari un po' meno brutto di come ce lo dipingiamo. Mark Twain diceva, se non hai letto il giornale sei disinformato, se lo hai letto sei informato male. Una battuta che è sempre attuale, siamo nell'ambito, entro nell'argomento delle fake news che spesso nascono anche dall'eccessiva frenesia proprio dell'informazione di cui parlavamo prima che non consente magari un'adeguata verifica. Voi certamente siete un giornalismo più lento, questo vi mette al riparo dalle fake news? In linea di massima no, il tema della velocità è un tema pazzesco perché comunque anche noi abbiamo il Corriere della Sera anche una versione online e quindi quando sei sul digitale hai bisogno, quando sei sul web hai bisogno di essere veloce di buttare dentro le cose, però qui ci hanno insegnato che la verifica delle fonti nei limiti del possibile però quella è la prima cosa da cui devi passare. Io personalmente nella gestione sia di buone notizie che del nostro canale, del canale della nostra sezione, dico sempre ai miei, corriamo il rischio di fare qualche click in meno ma facciamo una verifica di più. Quando ho dei dubbi su delle realtà che mi vengono raccontate perché poi io sono adesso subissato ovviamente da segnalazioni che mi arrivano da tutta Italia quando non posso verificarle sul posto mandando proprio i cronisti perché magari sono zone dove il cronista non c'è eccetera eccetera però insomma vado molto cauta, magari sento appunto consulto qualcuno del comitato scientifico per verificare di non dare voce invece a persone che non lo meritano perché poi purtroppo nel mondo del terzo settore abbiamo visto e sappiamo che c'è anche questo no? E quindi sì diciamo qui al Corriere della Sera cerchiamo molto di stare molto attenti sempre per il tema che dicevo prima il rispetto dei lettori quindi non puoi permetterti di dare in pasto ai tuoi lettori che sono il tuo bene più prezioso anche perché sono quelli che comprano il giornale di dargli in pasto notizie che non siano verificate. Andiamo in un ambito che è quasi diciamo scolastico no? Le famose cinque vule abbiamo studiate tanto i cinque punti irrinunciabili che devono essere presenti in ogni attacco giornalistico ovvero chi, che cosa, quando, dove, perché. Posto che fanno parte appunto dell'esercizio del buon giornalismo qual è secondo lei, non secondo lei, qual è un suo punto irrinunciabile? Ma secondo me è sempre il chi, cioè io parlo delle persone alle persone per cui dal mio punto di vista la cosa importante è scoprire dietro a una storia che andiamo a raccontare che c'è la storia di una persona perché anche le imprese di bene che noi raccontiamo nascono sempre dalla storia di una persona che può essere un giovane che non si è arreso un giovane che non voleva lasciare la sua terra una donna che ha cercato di inseguire la sua passione magari dopo un percorso di vita più difficile persone che cercano un riscatto imprenditori che si mettono in gioco perché si rendono conto che a un certo punto il loro fare business non può essere improntato soltanto al business ma deve fare attenzione anche alle persone con cui lavora e alla comunità in cui è la sua impresa quindi per me la cosa irrinunciabile è parlare di persone ed è la cosa poi cerco sempre di dire anche tutto il resto perché comunque io sono una giornalista e come dicono i miei figli sei giornalista dentro perché anche quando escono la sera o gli chiedo dove, come, con chi, quando, quando è, quando ritorni quindi un po' ti resta questo imprinting da giornalista però direi che il tema è quello delle persone Lei è stata membro della consulta femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura presieduto dal Cardinal Gianfranco Ravasi un organismo nato nel 2015 formato da manager, teologhe, scienziate, sportive, credenti e non credenti quindi il tema è la valorizzazione del ruolo delle donne nella chiesa ma non solo in tutta la società possiamo dire che al di là della chiesa in generale è una sfida ancora in corso questa, la valorizzazione delle donne secondo lei siamo ancora una società maschilista? Allora io non so se siamo una società maschilista perché se io dovessi guardare la mia storia io ho avuto le opportunità di fatto che ha avuto un uomo e che ha avuto anche mio marito anche nella gestione dei figli però ripeto perché io sono stata veramente molto aiutata da mia mamma e da mio papà cioè da una famiglia molto solida che mi ha aiutato nella gestione proprio pratica durante le mie tante assenze da casa però io dico in generale che avendo visto tante storie di donne neanche dal confronto che c'è stato negli anni in cui ho fatto parte della consulta le donne comunque devono sempre faticare un pochino di più e c'è comunque uno sguardo sempre un po' perplesso da parte degli uomini anche di fronte a una donna di grande talento il talento femminile che io non credo si debba affermare soltanto perché è femminile si deve affermare perché è talento però il talento femminile fa un pochino più fatica a mostrarsi e a farsi avanti io infatti sull'inserto tutte le volte che posso valorizzo storie al femminile e ci sono molte storie al femminile che sono molto positive è più difficile io spero che per mia figlia lo sarà meno la vedo che già ha ragione in un'altra maniera la vedo già relazionarsi con i maschi diciamo della sua generazione in un altro modo e sicuramente io ho fatto meno fatica di quella che aveva fatto mia mamma per cui è sicuramente un percorso che può migliorare in questo momento si fa ancora un pochino fatica